C'è il marito, si sveglia la mattina presto, sono le 6, gli fa la moglie. Oh, ascolta, sveglia, 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 sveglia. Senti, o vieni a cacciadana tre con me, o ve lo fai mettere nel culo, o mi fai un pompino. Scegli te. Senti, ascolta, io intanto vado a preparare il cane. Poi, quando torno ti decidi, eh. Che di questo esce? Con 10 minuti e un quarto d'ora rientra. Beh, allora, ascolta, io ti veni a caccia e non ho punta voglia. Nel culo, non ci pensa nemmeno. Ti farò un pompino e poi ti levi da coglioni, va bene? Eh, va bene. Si che dè, questo sale sul letto. Questo inizia, go 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 go. Il pompino smette, inizia a spiutare. Pum, ma che schifo, puum, ma che schifo, puum, ma che schifo. Oh, e che c'è? E ti sa l'uccello di merda. Eh, ascolta, e anche il cane ce la voglia di andare a caccia. Ciao. Ciao.